Allora siamo qui con Martina Guigi al Jam Camp, due brevi domande a Martina. La prima, cosa ne pensi di questa nuova esperienza a Villa Cortese? Sono felicissima di andare a Villa, una realtà giovane dove ci sono tanti obiettivi, una società che in due anni è già al vertice del campionato italiano, quindi sono felice dopo tanti anni a Pesaro di cambiare per una società giovane che vuole ancora vincere tanto in Italia. E poi sappiamo che rientrerà anche in nazionale, per cui cosa ne pensi Martina, sei contenta? Sì, sono felicissima, domenica inizierà il ritiro, sono felicissima di non fare anche quest'anno nessuna vacanza. No, a parte gli scherzi sarà un'estate impegnativa con tante manifestazioni, tutto agosto è il Grand Prix e poi nella preparazione della manifestazione principale che è l'Europeo a settembre saremo comunque impegnate tutta l'estate. Va bene, quindi niente, un'in bocca al lupo a Martina e speriamo di vederla presto al Jam Camp. Io continuo. Crepe il lupo, io volevo anche ringraziare questa inviata speciale Paola Croce che naturalmente ha un futuro nella televisione. Ovviamente. Alla Lugio. Alla Lugio. Lugio television. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.